Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo ancora qui con i nostri gamberetti per la seconda stagione del muore gambe alla conquista questa volta del mondo, speriamo di riuscire a portare a termine questa stagione, l'anno è lungo ce la possiamo fare signori. Allora, prima di partire dal video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al canale e a questa serie, vi ricordo di seguirmi su Instagram dove tramite le stories vi informo su quando escono i video sul canale e sulle live che andiamo a fare sia su questa che sulla piattaforma Viola e anche su quella di là, la piattaforma quella delle stream, mi trovate sempre come Maullo941. Detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok signori, allora, prima cosa, andiamo a rispondere a Mellor che era contento che lo stiamo a far giocare, noi siamo contenti che tu sei contento, prestazione atorevole, siamo tutti contenti, tu sei contento e noi siamo contenti, l'importante è che siamo contenti. Poi, altra notizia, è arrivato il cambio di ruolo di giardino, andiamo a confermare il cambio di ruolo di giardino che è diventato a tutti gli effetti un esterno sinistro, bravissimo il nostro giardino. Dai così, dai così, bravo il giardino che sta crescendo anche bene signori. Fate vedere un attimo i progressi della squadra, tanto per Abbrosa, anzi vedete qua i progressi della squadra, sì. Alstad più 1, Mendes il nostro portiere più 1, Henry più 1, Gibson più 1, Davis niente, Lavel più 1, Percival 33 anni meno 2, Mellor niente. Vaselà più 9, grande Vaselà, il nostro nuovo esterno destro, entrerà una base signori, Kanon più 1, Oyo Songo più 1, Giardino più 2, Pringles meno 2, quanti anni c'ha? 32 anni. Wilding niente, Dago curerà meno 3, porca mi ha 33 anni, Prince non è dei nostri ed è fuori, Sullivan niente, Lesmit niente, Stockholm più 1, Slow, il nostro mister lento niente, e Aladino più 1. Va bene, la squadra sta salendo bene, sta salendo bene. Allora, andiamo avanti con il calendario che entrando il nuovo mese dovrebbero arrivare gli osservatori. Questo allenamento come siamo minati? 1A, nessuno, Songo, Aladino, va bene, lo possiamo simulare, sì, sì, simula, simula. 1A, 1D e 1B. Lo so, li dovrei giocare signori, lo so, lo so, che però mi secca. Occhio, fermi tutti, fermi tutti, abbiamo gli osservatori che sono tornati, vediamo se ci hanno portato qualcosa, sì, facciamo di momento gli allenamenti, 2A, lì non c'è niente, va bene, simula tutto, 2A e 1D, eh, vabbè, ormai è così, praticamente, se non te li giochi, pigli l'AD nell'allenamento. Le seconde, squadra mensile, ok, vediamo il nostro primo osservatore che ci ha portato, Aidan Hannesei. Questo è un esterno sinistro, 230, eh, ingaggiamolo signori, sembrerebbe promettente, vediamo, magari li cambiamo un ruolo e lo portiamo a destra. Poi abbiamo questo portiere, 51, 69, che è inguardabile. Daniel Carey, 60, 84, no, no, inguardabile, inguardabile. David McCovey, 53, 73, 16 anni, questo non servirebbe, ma lo continuiamo ad osservare, è Thomas McKenna, 57, 79, no, 17 anni e 150, questo, mamma mia, inguardabile. Continuiamo a seguire Hoi, Heavy, come cavolo si chiama. Poi Smith cosa ci ha portato? Ci ha portato Teddy Wallace, che sono 4 mesi che lo stiamo ad osservare. 18 anni, 230, potenziale 70, 82, ma non mi sembra sto granché, signori, ma non, niente, niente, andiamo avanti. Max Highward, Max Highward, questo ancora non ha capito che ruolo vuole giocare, vabbè, allora, continui a pensarci. Archie Gravis, secondo mese, 74, 94, questo non sembra male, portiamolo dentro. Daniel Lamb, 56, 76, inguardabile. E James Buckley, 67, 91, 16 anni, questo non sembra nemmeno tanto male. Questo lo continuiamo ad osservare, così cerchiamo di capire giusto che ruolo gli piace fare, anche se è possibile fare il difensore centrale, potrebbe essere tanta roba. E ingaggiamola, ma sì, dai, buttiamo questi 4 soldi nei giovani, vediamo, vediamo che siamo andati a prendere, signori. Vediamo che siamo andati a prendere, perché ricordo a tutti che ci serve un difensore centrale, come il pane. Allora, Okamoto non ci serve. Steven, San Potenziale, 84, 94. Ed è un 60, ma se ci portiamo... No, ma noi gli esterni siamo messi bene, perché ne abbiamo due sulla sinistra e ora due pure sulla destra, no. Victor è niente, e lui per forza deve fare il niente, niente. Victor, cd, td, corno. Buckley, 16 anni, un 45 con potenziale 67, 91. Porca miseria. Grievance, Archie. Archie è tanta roba. Archie è un cdc, dc. 17 anni, potenziale 74, 94. Questo me lo porto subito, signori. Lo mettiamo in prima squadra e gli diciamo che deve cambiare ruolo e fa il difensore centrale. No, 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 problema in prima squadra. Dai, è così. Bravo, bravo. Hansei è l'esterno sinistro, che non ci serve realmente. Però lo potremmo portare e fargli fare il cambio ruolo. È un 42, potenziale 60. Aspettate, ma qua gli attaccanti invece... Attaccanti sinistro, ma non ci serve. Lui, McKinn. A, D, A, S, C, O, C. È un 61. Se lo facciamo cambiare ruolo, lo facciamo andare un esterno destro. McKinn, mi piace. Viene anche tu in prima squadra. Sto prendendo giocatori a casa, signori. Ma, eh, tabè non ci serve. Che canna non ci serve nemmeno. E, scotto al momento no. Anche se prometterebbe abbastanza bene. Allora. Io faccio, dico, ora che ho capito come si fanno a cambiare i ruoli dei giocatori è qualcosa di terribile. Allora, fermi tutti. Noi abbiamo portato un C, D, C. No. Grivins. Bravissimo lui. Che mi deve imparare a fare solamente il D, C. Anche se lo sa già fare il D, C. Vediamo se... No, no. Infatti, infatti. Difensore centrale. Due settimane. Bravo. Bravo. Cambia ruolo. Ok. E lui gli abbiamo detto che deve fare il D, C. E poi abbiamo un attaccante destro. Se non ripeto... Eccolo qui. McGraw. Perfetto. Che un 61 non è per niente male. Gli andiamo a dire che deve imparare a fare l'esterno destro. Cambia ruolo. E gli andiamo a dire che deve andare a fare l'esterno destro. Due settimane. Perfetto. Signore, ci stiamo completando la squadra con quello che abbiamo dentro. Questa cosa è bellissima. Questa cosa è bellissima. Grivins sta per diventare un difensore centrale. Questi due dovrebbero diventare due centrocampisti centrali. Prince è fuori dalle scatole. Lui sta per diventare un esterno. Perfetto. Ci siamo completati dalla squadra, signori. Con qualche piccolo passaggio. Abbiamo completato la squadra. Andiamo alla prossima partita contro il... Me lo ricordo questo. Chi sono? Il Cambridge. Può essere? Il Cambridge United. Può essere su loro? Il Cambridge United. Yes. Allora, la squadra dovrebbe essere riposata. Quindi giochiamo con i titolari, no? Sì. Per forza. Davis sta piano piano recuperando. Meglio così. Andiamo in campo contro il Cambridge, signori. Altra volta abbiamo fatto un filotto bellissimo. Vediamo oggi cosa facciamo. Attenzione, prima partita del video. Vinciamo 2-1. Gol di Wilding. Doppietta di Wilding. Grande. È uscito Sullivan per Pringles. È uscito Davis per Mel Gibson. Va bene così. Ci va di russo, signori. Ci va di russo. Ripartiamo col piede giusto. Altri tre punti dentro. Bella così. Bella così. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Nel frattempo stiamo facendo ottimi risultati per la dirigenza. Abbiamo un bel 97 di valutazione. Abbiamo il Peterborough in LF Trophy. Che andremo a giocare con i panchinari, signori. Andremo a giocare con i panchinari. Sì, sì, sì. Confermo, confermo. Partito dalle panchine. Le coppe però non ci servono, signori. Se noi riusciamo a creare il mostro di squadra di cui abbiamo i potenziali, poi le coppe ce le giochiamo in una maniera ancora più bella. Abbiamo perso 2-0. E va bene. E va bene. Ce ne faremo una ragione, signori. Ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione. Prossima partita di campionato. Prossima partita di campionato. Ora che ho capito come funziona tutto, signori, stiamo andando più velocemente. E questa cosa è ottima. Allenamenti. Abbiamo 2-A e uno che però c'è un McGreen. Va bene, questi me li vado a fare, signori. Me li vado a fare perché abbiamo McCalline che non... Dobbiamo farlo quell'esercizio lì. Quindi, rapido taglio, rapido taglio. Ok, signori. Esercizi fatti. Abbiamo preso A-A-A. Dico, meglio di così non si può. Manca a scuola i piavo stifosi. Manca a scuola i piavo stifosi. Dai, buono così. Andiamo avanti, andiamo avanti. Prossima partita. Chi è il pallone d'oro? Annunciato il miglior giocatore dell'anno. Cristiano Ronaldo, signori. Cristiano Ronaldo, il miglior giocatore dell'anno. Complimenti. Complimenti a lui. Complimenti a lui. Mellor vuole giocare. Mellor vuole giocare. Noi giochiamo con i titolari. Quindi Mellor è in campo. E andiamo. Andiamo, signori. Non abbiamo risposto a Mellor, ma non fa nulla. Chi era la squadra che non l'ho letto? Ma mannaggia, mi sono perso il nome della squadra. E quando il Forest Green abbiamo perso 2-1. Dai, cazzo. Volina, porca miseria. Stocco hanno sbagliato il gol del 2-1 e poi loro al 69 se la sono portati a casa. E va bene. È uscito Sullivan per Pringles. E va bene. E va bene, signori. E ci stava. Siamo stati sfortunati. Siamo stati sfortunati. E va bene. Andiamo a parlare con Mellor, che giustamente. Ci è rimasto male, ma noi ce ne sbattiamo altamente. Non è interessato a vincere e non avere a che fare con lui. Ci rimane male. Va bene. Detto questo. Piccoli dettagli. Va bene, signori. Detto questo, io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per gli eseggimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, ragazzi. Ciao. 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 Grazie a tutti.